Sono Clé di Cadio. La danza è tutta la mia vita. È la mia vita. Quando guido, è affidata la mia vista. In Italia, oltre il 59% degli incidenti stradali sono attribuibili a cause legate ad una visione inadeguata. Non pensare. Tanto a me non capita. Fai subito un controllo della vista. Ti aspettiamo per un test della vista gratuito con esami specifici per la guida presso i negozi Ottica Avanzi. Numero verde 800 28 25 25. Grazie a tutti.